Questo video in collaborazione col programma EA Game Changers di Electronic Arts Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo video sul canale Dopo mesi di speculazioni e tanta tanta attesa È arrivata fra noi The Sims 4, Vita sull'Isola o Island Living E cominciamo oggi la maratona di review che riguardano le espansioni Prima di lasciarvi al video però ragazzi vi ricordo di lasciare un mi piace per sostenere il video Iscrivvi al canale se ancora non vi siete iscritti e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate Detto questo vi lascio il video e buona visione E quindi ragazzi eccoci qua Finalmente in partita davanti a noi la schermata principale di gioco che ci dice The Sims 4, Vita sull'Isola ti dà il benvenuto Distenditi e rilassati Sulani ti dà il benvenuto Salpa sull'acqua scintillante a bordo della tua canoa Nuota a piacimento ed esplora l'ambientazione sulla moto d'acqua Costruisci uno spettacolare castello di sabbia e prendi un po' di sole Potrai perfino incontrare una sirena Contribuisci o dai una mano Diventa ambientalista e osserva l'impatto dei tuoi sim sull'arcipelago Affronta le onde per pescare o immergerti Oppure diventa banino per garantire la sicurezza della gente del posto I sim possono svolgere dei lavoretti o pescare il proprio cibo Scopri la natura locale La tradizione è assai radicata nell'isola di Sulani E i tuoi sim impareranno a conoscerla Immergeli nel loro nuovo stile di vita partecipando a barbecue Studiando il folklore locale Gustando privatezze tropicali e chiacchierando con gli elementi dell'isola Ostenta gli stili dell'isola Vesti i sim con abiti in stile tropicali Ispirati al sole, alla sabbia e alle onde In alternativa equipaggiali per attività acquatiche come lo snorkeling e il nuoto Decora un'oasi rustica con articoli per la casa E svagati al bar Tiki Ragazzi abbiamo tutte le premesse per far di questa l'espansione più bella Mi è uscita sui Sims 4 ma è ancora troppo presto per dirlo Probabilmente nei prossimi video la vedremo meglio Detto ciò però ragazzi come sempre si parte dal crown sim Quindi ci vediamo là E quindi ragazzi come sempre ci troviamo nel crea un sim Come vedete abbiamo preso dei sim random tutti nudi, tutti belli, due adulti, due bambini, due bebè E anche una sim che diventerà sirena Probabilmente il procedimento è uguale per i sim uomini Quindi in realtà ve lo faccio vedere solo una volta Prima però di vedere le parti del crown sim Andiamo a vedere le novità più importanti Ovvero il tratto randomico che abbiamo avuto con la patch gratuita Ma abbiamo anche una nuova aspirazione E ora vediamo un po' di trovarla Ed è qua in luogo E la nuova aspirazione è vita da spiaggia I sim vuole prendersi alla comoda e godersi la vita da spiaggia E la mettiamo Mentre fra i tratti nuovi ragazzi Beh ne possiamo trovare ben due Dovrebbero essere figlio dell'oceano e figlio dell'isola E adesso li troviamo Figlio del mare In realtà non dell'oceano Rispondi al richiamo del mare I sim con questo tratto prediligono le attività acquatiche E si sentono più vicini agli abitanti del mare Glielo mettiamo E vediamo un po' anche di mettere figlia delle isole Vediamo un po' cosa dice questo tratto Guardate un po' l'animazione quanto è bella Questi sim si sentono spiritualmente legati alle isole di Sulani Onora le isole immergendoti nella loro cultura Invoca potenti elementi Raccogli i frutti delle loro benedizioni O subisce le conseguenze della loro sfiducia Quindi si ragazzi Pare proprio essere interessante Mettiamo questi due tratti nuovi a questa sim Guardate un po' che bello E direi ragazzi che cominciamo però a vedere Tutte le nuove aggiunte Partiamo dalle sim donne ragazzi Partiamo dal nostro simpaticissimo filtro Vita sull'isola E oh mio dio quanta roba c'è Partiamo dalle nuove pettinature Dante Alighieri Ciao Bello Anche perché poi possiamo ovviamente cambiare i colori dei fiori In base al colore dei nostri capelli Però molto molto carino e senza varianti Abbiamo poi Coda Coda da sulanessa Mettiamola così Molto carina Capelli più corti E ricciolini La cofana ragazzi La cofana della sirena Bellissima Altri capelli sempre legati in questo modo Capelli ancora più strani Molto molto particolari Molto molto a tema Con le isole Un po' come questi Notare anche i dettagli delle pettinature Un taglio Un taglio In realtà capelli lunghi e molto molto ricci Mi piacciono Poi abbiamo la crestina Guardate un po' La cofana verso l'alto Altri capelli sempre ancora più lunghi Ancora più belli Ancora più ricci Mettiamola così E poi abbiamo le varianti con le sfumature di colore E queste ovviamente cambiano in base al colore Che noi scegliamo di dare al nostro sim Uno è questo E uno invece è questo Ovvero i capelli lunghi Che cambiano di tonalità Ovviamente in base al colore principale Passiamo anche al trucco ragazzi Perché abbiamo dei nuovi trucchi Abbiamo questo Molto molto isolano Sempre in varie colorazioni Molto carino Non vedo altre aggiunte ragazzi L'unica stellina me la dava la Quindi in realtà suppongo Ah no ecco Ce n'è anche uno per l'intera faccia Molto bello Anche questo con delle scaglie Un po' da sirena Che si possono applicare E credo sia l'unico ragazzi Eh sì Per quanto riguarda il trucco Abbiamo queste due varianti Cappelli ragazzi E come se li abbiamo i capelli Intanto vado sempre a mettere Il nostro filtro Ma ne abbiamo di due varianti Questo Molto carino in realtà Ci sta per la vita da spiaggia E come Molto molto colorato Molto molto a tema Davvero carino E poi ovviamente Si parla di immersioni Snorkeling e quant'altro Quindi Perché non mettere una bella maschera Con la possibilità di Respirare sott'acqua Direi che è il minimo Accessori che riguardano vita sull'isola Ne abbiamo un bel po' in realtà Abbiamo questi orecchini Che però aspetta Togliamo la cofana Qua davanti Signori Perché altrimenti non si capisce nulla Grazie Ok Accessori Dicevamo Ne abbiamo tanti Abbiamo un paio di orecchini Togliamo i capelli Che non si vedono gli orecchini Mettiamoli all'insù Perfetto Ce la possiamo fare Orecchini ragazzi In varie colorazioni Molto carini Ovviamente Maschera e boccaio Direi che è perfetto La nostra collanina Awaiana E pensate un po' Direi che è assolutamente A tema Abbiamo poi Una collana Con le conchiglie Comunque qualità di molto molto Pregiato Mi piace Collana Col fischietto in realtà Da bagnino Perfetta Collana gigante Molto molto carina Devo dire che Gli elementi E anche i dettagli Degli accessori Mi stanno piacendo molto E collana di perle Un pochino più regale Mettiamola così Ma davvero carina Vi ricordo che abbiamo Le sirene ragazzi E con esse Abbiamo tre nuovi tipi Di denti Guardate un po' Vai sorridi Cheese Che carina Denti gialli E denti Acuminati Ancora peggio Per una bella sirena Bella bella tosta Devo dire che mi piace Mi piace molto E credo siano le uniche Aggiunte Che riguardano questo pack Ovviamente In aggiunta ai tratti Delle creature Un po' speciali Ma non è finita qua Perché nella sezione Tatuaggi ragazzi Ne abbiamo davvero Di nuovi Bellissimi Maori Molto molto belli Abbiamo questo Abbiamo questo Nella gamba Abbiamo questo Nell'altra gamba E credo ci siano solo Questi tre tipi Non è vero mai nella vita Ne abbiamo uno Anche per la schiena Molto molto Belli ragazzi Davvero Mi piacciono anche molto Molto i tatuaggi Sicuramente li utilizzerò Magari per fare qualche sim Partiamo dalle parti Superiori ragazzi Ok Abbiamo questa Molto carina Molto carina Davvero in vari colori Abbiamo questa Molto isolana ragazzi Ci sta E' un pack estivo Questa con degli uccellini tropicali E anche varie colorazioni Bella Questa un pochino più lunga Le scorrono molto molto velocemente Ragazzi Questa un pochino più Regale Se vogliamo Se anche si può abbinare davvero a qualsiasi stagione Mi piace Questa Sempre molto carina Vi ricordo che poi con la bronzatura Subiremo anche gli effetti Di tutti i vestiti Quindi La forma dei vestiti sarà importante Un po' come questa Che possiamo mettere sempre in vari colori Abbiamo anche questo Carino Molto molto leggero Ma in realtà è estivo E ci sta Questo mi ricorda anche un po' Un qualcosa di orientale Se vogliamo Anche un po' giapponese Poi abbiamo questo Un po' un vedo non vedo Molto trasparente Direi che ci sta anche questo ragazzi Manca a dirlo Lo scorro velocemente In vari colori Davvero tanti Vari colori Poi abbiamo Questa Un pochino più semplice Eccola qua Sempre di vari colori Questo Wow Quanta roba Questo che è assolutamente Una sorta di costume Molto molto easy Questo invece Per una stagione un pochino più fredda Se anche a Sulani Non credo ci sarà mai l'inverno Questo invece è particolare Forse da bagnino Non lo so Questo stemma ragazzi Un po' mi dà da pensare Sembra quasi qualcosa Non legato a questa espansione Ma vedremo Vedremo Intanto andiamo avanti E abbiamo questo Sempre in vari colori Abbiamo sempre delle parti superiori Che ricordano giustamente i costumi Questo con i cocchi Proprio proprio Isolana Al massimo E questo in realtà Si può anche Applicare alle sirene Un po' come questo Fatto con le conchiglie Direi che Davvero Per quanto riguarda Gli abiti Superiori Ci siamo E possiamo sbizzarrirci Parti inferiori ragazzi E di nuovo si va Di pack E ovviamente Vita sull'isola E quanta roba c'è Pantaloni ragazzi Pantaloni In varie colorazioni Vare Wow Quanta roba c'è ragazzi Un po' come questa gonna Molto molto Isolana Molto molto spiaggia Ma in realtà Questi si possono anche mettere Ma in realtà questi ragazzi Io li metterei anche Per qualcosa di più formale Se vogliamo Anche un cocktail Anche una Festività Magari anche in un altro quartiere Notare anche Io intanto scorro tutti i vestiti Quanto siano vari E quanta roba hanno aggiunto Davvero Un sacco di roba ragazzi E gg Perché davvero Ci sarà da divertirsi Anche gli shorts E abbiamo anche Delle gonnelline più semplici Abbiamo la parte inferiore Della parte superiore di prima Quindi in realtà Un completo Da spiaggia Un altro pareo Molto molto colorato In varie colorazioni Abbiamo poi La donna Ovviamente A huagliana Direi che Non può mancare Eccola qua E infine Questo vedo non vedo Carino Molto molto leggero Direi a tema Con le espansioni Abiti interi ragazzi E che fai Non ce li metti Due o tre abitini E ho paura Perché Uh Beh dai Pensavo peggio Qua ne abbiamo Otto Che sono tantissimi Comunque Ok Una salopetta Molto particolare Direi che ci sta Per l'isola Questa sicuramente Ancora di più Anzi questo è molto Molto formale Se vogliamo Magari per un festival Di sulani Un po' come questo Perché con i giusti abbinamenti Ragazzi secondo me Questa roba può andar bene Anche questa ragazzi Wow Questi vestiti Io li utilizzerei tutti Davvero sono uno Più carino dell'altro Ecco qua Questo è ancora più lungo Molto sirena Mi dicono Poi abbiamo questo È perfetto Guardate un po' Tutti i colori E poi ovviamente Per andare Sott'acqua Beh Siamo muniti Della nostra muta Sempre in vari colori Quindi Andiamo sott'acqua Sì ma con stile E Anche con lo scheletro Accessori ragazzi E come se ce ne sono Qua dovremmo avere qualcosa di carino Infatti abbiamo I bracciali Con le foglie Dell'isola di sulani Molto carini Poi cosa abbiamo di bello Solo questi Eh sì ragazzi Non abbiamo anelli Non abbiamo Leggings Non abbiamo calze A quanto pare no Ma abbiamo delle scarpe E come se le abbiamo Credo ce ne siano Anche credo Abbastanza Beh Quattro paia Queste Da spiaggia assolutamente Poi in vari colori GG Queste qua sono quelle Pantofoline Che ti tirava la mamma da piccolo E ti distruggeva l'anima Probabilmente si sono quelle Poi abbiamo Un sandalo Un pochino più da isola Se vogliamo Un po' etnico Mentre questo invece È una sorta di vimini Carino Sempre in varie colorazioni E infine le pinne Che non possono mancare Ma anche queste ragazzi In vari colori Perché ripeto Anche sott'acqua Lo stile non si infama Scorriamo al volo I tipi di look Di questa nuova espansione Partendo dai quotidiani Quindi facciamo Prova questo look Ovviamente in vari colori Carino Quindi abbiamo Album del festival Poi abbiamo Turismo Opulento Eccolo qua Con dei cappelli Un pochino più Autolocati Stile di sulani Eccolo qua Guardate un po' Con la salopetta Poi abbiamo Basta Solo tre stili Ah no aspettate Però solo per i quotidiani No togliamo il filtro Probabilmente ne abbiamo di più Quindi abbiamo questo Abbiamo questo Onde ad alto impatto Esatto Eccolo qua Sempre in vari colori Poi abbiamo ancora Buemiem della spiaggia Molto molto easy Se vogliamo questo In vari colori Carino Poi abbiamo Classichini Uh eccolo Sempre in vari colori Aspettate che lo rimettiamo un attimo Quanti stili Ok Perfetto Poi abbiamo In realtà In tre pezzi Ok Eccolo qua Sempre in vari colori Galà isolano Questa è tipica di Sulani Molto bello Davvero Stile di Sulani L'avevamo già visto Selly Sommozzatore Eccolo qua Ovviamente poi cambia i colori E basta Beh però abbiamo 12 nuovi stili E passiamo ragazzi I sim maschi Facciamo una scarrellata veloce Abbiamo dei capelli Sì abbiamo La crestona bella La cofana in alto I capelli Un po' Alla tarzan Sempre Dante Alighieri Levati E poi i ricciolini Carini Mentre per quanto riguarda I capelli Abbiamo gli stessi Gli accessori Credo avremo qualcosa di diverso In realtà no Abbiamo sempre Maschere a boccaio La nostra collana E il nostro fischietto Direi che è perfetto Barbe Non ne vedo Probabilmente stessa cosa vale Per i nostri tattoo Quindi Guardo un attimo al volo Ma probabilmente Sono gli stessi Vediamo un attimo Sì ragazzi Sono sempre gli stessi Ok E anche questo sulla schiena Molto molto bello Questo qua magari lo togliamo E quindi ragazzi A questo punto Beh ci immergiamo Negli abiti E anche per i maschietti Si sono davvero Tanto ispirati Ragazzi Guardate un po' Quanta roba Per i sim maschi Canotte Magliette Con le maniche lunghe Abbiamo delle camice Hawaiane Che levati Altre canotte Tutte in vari colori Ragazzi Le sto scorrendo velocemente Ma quanti colori Altro giubbottino Molto molto carino Magari da mettere Per quando fa più freddo O la sera Fiori Come se piovesse Ma direi che ci sta Siamo assulani Molto molto Isolano Questo stile totem Mi piace Altre camicia Hawaiane Davvero ragazzi Quanta roba hanno messo Quanta roba Delle felpine Wow Anche se i maschi A sto giro Hanno avuto un bel po' Di robe E si va avanti ragazzi Maglietta della salute Molto molto carina Però in tema Perché come vedete Cambiando i colori Diventa carina Una maglietta Molto particolare Ci sta E infine abbiamo Beh questa Con la parte superiore Del corpo In realtà E per i nostri Tritoni belli Ovvero La nostra rete Con l'alga Molto molto carina Molto molto virile Che davvero Levatevi proprio Parti inferiori Ragazzi Quante Oh bermuda Come se piovessero Ragazzi Guardate Quanta roba Quanta Bermuda In realtà Molto più lunghe Ma molto molto carina Aspettate che Sto scorrendo tutto Poi si va ovviamente Nello spirito Dell'isola Quindi qua ci sono I vestiti tipici Costumino Carino Guardate un po' Gonnellone Da isolano Di sulani Altro In realtà Altri pantaloncini Con qualcosa Però per coprirli Molto molto isolano Anche qua ragazzi Davvero Ci divertiremo A fare i festival Il peggio festival Qua invece abbiamo Un qualcosa di più carino Perché lo possiamo utilizzare Anche per andare a pescare Probabilmente questo va bene Per un pescatore Jeans Uh Questi mi piacciono Questi li utilizzerò Un sacco ragazzi Anche negli altri quartieri Una buona aggiunta Sempre il pareo Bello bello grande Sempre in vari colori Abbiamo la gonnellona Ovviamente Polinesiana Mettiamola così E poi abbiamo L'ultimo Davvero carino Abiti interi Ragazzi Maschile Vita sull'isola Abbiamo solo questo La povertà Ragazzi La povertà Abbiamo solo la muta da sub Per il resto I maschietti Non hanno avuto nulla Ciao maschietti È stato bello Carpe Due I sandaloni Quelli belli E le pinne Direi che va bene Ci accontentiamo Abiti interi Quindi abbiamo detto Che non ce ne sono davvero Peccato Questa roba Un po' mi dispiace Vediamo un po' I tipi di look A questo punto Primo Quindi risacca Proviamo questo look Carino Poi abbiamo Abito tradizionale Ecco Guardate un po' Con il tatuaggio Bellissimo Steve Sommozzatore Anche per lui Sempre in spiaggia Molto molto Hawaiano Se vogliamo Questo invece Eleganza del pareo Molto carino Anche questo Weekend Assurani Qualcosa di un pochino più Diciamo elegante Vestimento Lava lava Carino Ok E basta Ovviamente ragazzi Tutti questi Non sto a scorrere Ma li troviamo in vari colori A questo punto Si va dai bambini E in questo caso Si va da Sebastian Un bambino maschio Che ha La nuova pettinatura Di Sulani Ovvero la crestina Che però metterei In pandan Con le sopracciglia Vediamo un po' I cappelli Niente Accessori Sì abbiamo Anche per lui Maschera e boccaio E anche la collanina Mi piace questa cosa Poi andiamo qua Invece abbiamo Due nuove parti superiori Ovvero questa Sempre in vari colori Molto molto Elegante Ma allo stesso tempo Molto molto colorata Tartarughe Maschere Bellissimo Questa mi ricorda Aku Aku Di Crash È la mia preferita Già da adesso Ve lo dico Poi abbiamo Un bel po' Di parti inferiori Molto a tema Lo stesso con l'isola Guardate un po' Molto carine Abbiamo anche questo Quindi il costume Con qualcosa legato dietro Molto particolare Ovviamente Le gonnellone Di Sulani Che non possono mancare E faremo in realtà Delle cose Delle festività Probabilmente in stile Sulani Vedremo Abiti interi ragazzi I bambini ne hanno due Mentre gli adulti no Ovvero abbiamo questo Che è una sorta di muta In realtà Un costume intero Per andare a fare immersioni E poi abbiamo questo In realtà Credo anche per bambina Più per bambina Che per bambino Però comunque Lo troviamo in vari colori È un bel costume intero Scarpe ragazzi Sandaletti carini Sempre in vari colori E le nostre pinne Immancabili Mentre accessori Non abbiamo nulla No ragazzi E credo che per quanto riguarda I bambini maschi Abbiamo finito E bambine femmine ragazzi Eh sì A questo punto ci parte La bambina femmina Voglio solo vedere Però per quanto riguarda I bambini maschi Se hanno aggiunto Qualche nuova aspirazione No I tratti invece Li abbiamo già Quelli nuovi Sì Li possiamo mettere Anche i bambini Direi che è perfetto Allora facciamo così E direi che ci siamo Capelli ragazzi Crestina E anche questa nuova pettinatura Che mi piace un sacco Andiamo dai vestiti Però ragazzi Vestiti interi Ne abbiamo tanti Carini Anche quelli per bambina Questo è uno Questo è un altro Sempre in vari colori Questo è ancora un altro Ancora più carino GG Poi abbiamo i due costumi Parti inferiori per bambina Le stesse Se anche vedo questo Che credo sia Un qualcosa di diverso Non credo ci fosse Per i bambini maschi Ma è molto carino Parti superiori Abbiamo questa nuova Che mi piace Sempre in vari colori E questa Che è una cannottierina Per le nostre bambine Direi che è perfetto E anche questa in realtà Ragazzi Questa è ancora più a tema GG Scarpe per bambine Abbiamo le pantofoline Con il fiore Mentre gli altri due Le abbiamo già viste Per i bambini maschi Quindi direi che abbiamo fatto tutto E ragazzi A questo punto Vediamo i bebè Non abbiamo nulla Che riguarda cappelli Piuttosto che capelli Piuttosto che accessori Credo ci sia qualcosina Esatto A livello di parte superiore Una nuova parte superiore Con la stella marina Ma in realtà guardate un po' Quante colorazioni ci sono Una parte inferiore Ovvero Questa gonnellina Molto carina Questi pantaloncini Ci sta E anche per i bebè Ragazzi Le gonnelline Di Sulani Wow Quanta roba Carinissime Poi abbiamo accessori Abbiamo i braccioli Che a questo punto diventano Accessori A tutti gli effetti Quindi li possiamo utilizzare Credo di poterli utilizzare Però probabilmente Togliendo questo Esatto Quindi dobbiamo stare attenti E i braccioli li possiamo usare Solo quando hanno il petto nudo Ci sta Poi abbiamo Abbiamo detto Queste robe qui Perfetto E abbiamo invece I braccioli Carini 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 Mi piacciono Un sacco Per quanto riguarda invece Il corpo intero I costumi Salopette Costumi da bagno Abbiamo questo Ragazzi Molto carino E a proposito Vorrei un attimo Vedere tutte le parti Dei costumi da bagno Anche degli altri sim Perché credo di averle Dimenticate Però Devo dire che anche i bebè Hanno ricevuto qualcosa A questo punto ragazzi Però vi starete chiedendo E le sirene E le sirene Sono loro Sono sim Normalissimi Ai quali noi possiamo applicare Tutto ciò che vogliamo Stesse cose Quindi ragazzi Che so Vado a mettere un abito intero Per la nostra sim Molto molto carina Vado a mettere anche Una capigliatura un po' particolare Magari questa Ci sta O magari questa Più carina E però cosa succede Quando diventa sirena Beh Ha la sua forma sirena Guardate un po' Mi diventa sirena E come funziona la sirena Beh Abbiamo le pinne E ne abbiamo di 4 tipi E tutti questi tipi di pinne Ragazzi Hanno un sacco di colorazioni Si possono mesciare O unire Sono diversi Più ricchi Meno ricchi Ragazzi Bellissimi Davvero Un sacco di cose Notare anche l'acqua In superficie È una cosa bellissima Ragazzi Davvero L'acqua è tanta roba Abbiamo quindi Delle parti di pinne Poi abbiamo le parti superiori Che invece Hanno al loro interno Queste due varianti Ovvero Questa Che ti permette poi Sul rosso Di creare Una texture unica Oppure le puoi anche mesciare Secondo me Anche mesciate Sono molto carine Oppure questa ragazzi Quindi abbiamo due diversi tipi Di scaglie Diciamo così Della sirena E ovviamente La stessa cosa Vale per i sim maschi E in realtà Quelli che diventano Tritoni Abbiamo la stessa texture Per quanto riguarda il resto Ragazzi Nulla L'unica cosa che vi posso dire È che la nostra sirena Risentirà Dei tratti Che avrà la sim comune Ed è molto molto carina Questa cosa Non abbiamo Delle altre cose Specifiche per sirena Abbiamo solo la coda E possiamo personalizzarla Al massimo Anche perché qua ragazzi Abbiamo delle cose Più importanti Ovvero Abbiamo I tipi di faccia Faccia da sirena Faccia da sirena Arrabbiata Ancora peggio Una colorazione da sirena Che può tendere A diversi colori Davvero Bellissima E poi abbiamo appunto I tipi di faccia Molto molto più chiarini E qua Beh abbiamo gli occhi Ora vi faccio vedere Anche gli occhi della sirena Guardate un po' ragazzi Ora stiamo facendo Solo delle prove Per quanto riguarda Le sirene Ma possiamo davvero costruire Ciò che vogliamo Guardate un po' Lei è molto molto inquietante Questo Questo Ragazzi Quanto si sono Sbizzarriti Con gli occhi della sirena Ragazzi Davvero sono Spettacolari E credo Non ci sia altro Per quanto riguarda Le sirene Probabilmente si Possiamo mettere Magari questa roba qua Per renderle Un pochino più Inquietanti Ma per il resto Direi che ci siamo Magari sul trucco E sul pittura da viso Magari io metterei Qualcosa del genere Per renderla Ancora più inquietante Però per il resto Ragazzi Davvero Credo di aver visto tutto Che riguarda Anche la trasformazione In sirena Per esserne sicuri Ovviamente Possiamo tornare Alla forma base E dobbiamo stare attenti A come creiamo Le sirene E voglio vedere Però se anche un sim Che non è una sirena Quindi ad esempio lui Può risentire Degli occhi della sirena Oppure sono Delle feature uniche Che riguardano Sicuramente La creatura E infatti Così ragazzi Qua non abbiamo I colori della sirena Quindi quando diventerà Sirena O tritone In questo caso Visto che è un sim maschio Avremo queste feature in più Detto ciò ragazzi Abbiamo visto in toto La modalità Crea un sim Tanta roba ragazzi Tanta roba Non so da quanto sto registrando Questo video sarà Diventato lunghissimo Cercherò di tagliarlo E portarvelo Quanto più Velocemente possibile Ma è solo L'inizio ragazzi Mancano l'appello La modalità Compra e costruisci L'isola di Sulani Il calendario Le interazioni E chi più ne ha Più ne metta Quindi ragazzi Restate sintonizzati Perché questo è solo il primo Di una lunga serie di video Detto ciò Io spero che vi sia piaciuto E se così vi invito a mettere un mi piace Iscrivervi al canale E farmi sapere sotto Noi commenti che ne pensate Vi ricordo che trovate qua Il pulsante per iscrivervi Altri dei video Io vi do l'appuntamento Al prossimo E vi dico Ciao a tutti